Buongiorno a tutti, io sono Fabio Mattis e questa è la rubrica Il posto sbagliato, la rubrica che è nata su LinkedIn nel 2019 e che dopo un po' di tempo ho deciso di riprendere in mano. Normalmente esce il lunedì e oltre a finire su LinkedIn finisce su tutte le varie piattaforme di podcast. Oggi di cosa parliamo? Parliamo di servizio. Cosa significa il servizio e cosa c'entra? Il posto sbagliato è la rubrica dove si parla di cose che probabilmente non andrebbero su LinkedIn. Però mi piace stimolare anche il discorso. Perché parlo di servizio? Perché è una cosa che a me tocca tantissimo. Perché? Perché vedo, nella mia esperienza, posso dire che essersi messo a disposizione degli altri e forse la prima forma e la più, come dire, concreta, la formula più vincente, diciamo, di marketing. Perché dico questo? Perché quando noi andiamo a parlare con delle persone che potrebbero diventare nostri fornitori, supporta, compagnia bella, potenzialmente li conosciamo poco, almeno che non siano conoscenti, i nostri amici, eccetera. E quindi, l'abbiamo già detto tante volte, troppo sul gatto. Saluta. Ciao. Ciao. C'è bisogno di creare questa fiducia. La fiducia è una cosa che è difficile da ottenere. Non crediate che sia facilissima. La fiducia è difficile da ottenere perché? Perché dall'altra parte, soprattutto in questi periodi un po' strani, ma in realtà probabilmente è sempre stata così, non si conosce, c'è diffidenza. Io parlo dal ridente Piemonte, dove i piemontesi si sa che sono un po', forse anche i Liguri, un po' così. C'è un po' Nord, devo dire, lascio stare il Veneto, il Veneto sono fantastici. Però anch'io sono piemontese, doc, effettivamente c'è qualcosa. Mettersi a disposizione, servire, è a una sorta di, vogliamo chiamarla umiltà, a me non piace tantissimo questa parola umiltà, perché è molto utilizzata, secondo me anche a sproposito delle volte. Però ci si può mettere a disposizione dando prima di ricevere. Mi hanno detto anche altre volte. E se tu dai, sicuramente ricevi da qualche altra parte. Ed è per questo che io sto cercando di creare una community basata su certi valori. Certo, perché poi io nella mia comune ci voglio persone potenzialmente che rispecchino anche, come dire, i miei valori. Perché altrimenti non mi va di attornarmi di persone che non mi interessano. Che poi fai un discorso, non ci si trova. Io spero di trovare sempre persone che siano allineate. E quindi il servizio, cioè dare, fa sì che comunque tu metti sul piatto quello che sai fare, come lo sai fare. Perché poi comunque ti sceglieranno. Ho già ricevuto diverse obiezioni a questa cosa. E no, perché poi tu dai tutto, poi la gente non... Che ne so, faccio l'esempio dei corsi, no? Non metto tutto, la mia politica è sempre la stessa. Imparo una cosa e la metto a disposizione. E nei corsi mi dicono, no, ma tu dici troppo, poi chi viene ai corsi? In realtà in corsi c'è sempre gente, per fortuna, fino adesso. Anche se sono online. Perché questo? Perché un conto è le cose spot. Però intanto ti faccio capire come lavoro. Un conto invece è avere un piano ben organizzato. Ma io sono anche convinto che se facessi dei corsi gratuiti online, avrei comunque gente che verrebbe ai corsi quelli a pagamento. Perché si è creata questa fiducia, perché puoi fare domande, perché c'è più magari interazione, eccetera. Questo è quello che penso. Potrei sbagliarmi di grosso. Ma il servizio, guardate, perfino tantissime religioni parlano di servizi. La religione cristiana, la religione, anche, che ne so, i monaci, veda e altre. Il servizio è la prima cosa. E forse, se ci mettiamo al servizio degli altri, forse il mondo andrebbe anche, forse, un pochino meglio. Io sono Fabio Mattis, vi do appuntamento con il posto sbagliato la prossima settimana, invece con tutte le altre cose di We Are The Net, tutti i giorni, in questo periodo, soprattutto sul canale Telegram di punto me slash We Are The Net. Ciao, ciao.